Una conferenza stampa a quattro voci per annunciare che l'1 maggio Tarantino ci sarà. Simona Fersini, Virginia Rondinelli, Giovanni Raimondi, Raffaele Cataldi hanno accolto la stampa delle grandi occasioni nella sede del movimento Liberi e Pensanti in via Cavallotti. Per il momento i nomi degli artisti che animeranno l'edizione 2024 restano top secret. Sono certi invece i temi che oltre alla musica saliranno sul palco. Lo scenario internazionale è le pesanti guerre in atto, i cambiamenti climatici e l'inquinamento ambientale che a Taranto, come ribadiscono gli organizzatori, è targato ex ILVA. L'1 maggio inizia il 23 aprile con tutte le associazioni di Taranto che stanno collaborando a questa fantastica marcia, che chiede un futuro diverso per i nostri figli, perché noi questo presente non lo vogliamo. Come dicevo prima, l'ILVA ormai non esiste più, è un morto che tengono in vita. Marceremo verso il parco delle mura greche e poi lì ci saranno interventi ma anche della musica. I dettagli ovviamente saranno diffusi dal comitato organizzatore. Noi quello che ci teniamo è invitare tutta la cittadinanza a partecipare alla marcia del 23 aprile. La guerra, il tema importante è l'assoluta incertezza, la precarietà, che invece di essere fonte di sogni, di speranze, di possibilità, si è tradotta, si traduce ogni giorno di più in paura e certezze di difficoltà. In luogo delle opportunità, l'abbiamo scritto, abbiamo una lunghissima serie di difficoltà che temiamo di raccontare, di esporre alle nostre studentesse e ai nostri studenti. Ci vuole coraggio per chiedere alle persone più giovani di essere ancora fiduciose nel futuro. L'atteso intervento telefonico di Michele Riondino, direttore artistico dell'1 maggio insieme a Diodato e Roi Paci, ha rilanciato l'interesse e l'entusiasmo rispetto ad una manifestazione sempre più identitaria della città dei Due Mari.